Noi siamo il penultimo parco nazionale istituito in Italia, però siamo tra i primi 9 su 23 parchi nazionali ad essersi dotato del piano territoriale del parco, che è un successo secondo noi importante e che appunto vogliamo che anche il parco delle gravine possa mutuare ed eguagliare. La nostra esperienza è un'esperienza in particolare di vicinanza al territorio. Quando siamo arrivati siamo stati visti come gli occupatori, come se avessimo fatto un'annessione del territorio del parco, che sono 68 mila ettari, tutto inserito in un sito di importanza comunitaria e una zona di protezione speciale di 125 mila ettari, però noi ovviamente eravamo visti così. Devo dire che dal 2007 abbiamo fatto questo grande lavoro di prossimità nei confronti soprattutto delle imprese agricole, abbiamo stipulato convenzioni per la gestione del territorio, abbiamo utilizzato strumenti piuttosto innovativi, almeno nella nostra regione e in Italia, per cui si è creato questo clima tranquillo, abbastanza tranquillo. Il lente parco è riconosciuto, e questo è importante, è riconosciuto sul territorio e dal territorio. Abbiamo potuto e possiamo ora intraprendere una strada anche di valorizzazione del territorio attraverso i sistemi della mobilità lenta, utilizzando ovviamente le indicazioni e la progettualità del piano per il parco, che è ormai vigente, e cercando ovviamente anche di entrare come soggetti gestori nella rete Natura 2000, quindi per il sito di importanza comunitaria, che è destinato a diventare zona speciale di conservazione e quindi su questo con la regione c'è in piedi un rapporto collaborativo per arrivare a questa definizione. I cittadini hanno sempre visto questo territorio come un territorio, diciamo, di svago, tra virgolette. Ovviamente era un territorio di svago, insomma, non coordinato, per altro verso questo territorio, cioè dell'Alta Murge, è sempre stato visto come un'area agricola marginale, assolutamente fuori dai contesti produttivi e fuori dai contesti di valorizzazione. L'apporto del parco, la novità del parco è stata proprio questa, che ha rovesciato questa concezione e quindi ora non solo i baresi o i pugliesi, ma ormai abbiamo provenienze dal nord Europa tranquillamente, dall'Australia, dagli Stati Uniti, soprattutto in bicicletta, perché è un territorio molto ciclabile, è un alto piano, tutto sommato non si fa molto sforzo, quindi è facile da questo punto di vista e quindi ha i numeri per riuscire a soddisfare la domanda di recreation, come dicono gli americani, cioè di godere di paesaggio, aria pulita, silenzio, eccetera. Ci ha tutti i numeri. Non ha sicuramente una tradizione turistica che da un lato è un segnale positivo, è un dato positivo, dall'altro negativo, nel senso che oggi noi possiamo lavorare anche su questo e speriamo anche di farlo con gli altri soggetti che si occupano di questo, a cominciare dai GAL, da Puglia Promozione, eccetera, è quello che stiamo tentando di fare.